Ecco Capitano Purino, siamo nella ripresa, lascia il campo anzitempo, messo fuori da benedetti per somma gli ammunizioni. Anche l'arbitro oggi non era in buona giornata, ma questo non c'entra. E anche queste immagini non vogliono infierire sul Purino, ma piuttosto spiegare quanto tutto sia fuori posto in casa Juventina. Ora sono saltati anche i nerdi e la squadra bianconera appunto che si trovava sull'1-2 per rimontare verso un pareggio non impossibile, rivelava senza vergogna i limiti attuali, di gioco e anche di carattere. Troppe erano state le ammunizioni. Anche Trapattoni si era invischiato togliendo Prandelli non trascendentale, ma mettendo Virdis, o meglio, la sua ombra evanescente. Quindi avevano buon gioco i viola, specialmente con gli umili, Restelli, Sacchetti, Orlandini e in particolare il combattivo Pagliari. Ma eccoci ai gol, i gol appunto che sono l'unica nota bella di una partita non certo tonificata sul piano del gioco e della tecnica su entrambi i fronti. Vedete quant'è bella la sforbiciata di Sacchetti? E quanto sa di Argentina il gol dell'Omino di Fiesole, quel tendi che non finisce di stupire. Neanche Zoff se l'aspettava. L'impennata è il ventino e il gol che parte da un presunto fallo contestato a tavola. Grini è fermo e Bettega segna. Ma non inganni questo gol, Bettega è tatticamente parlando un elefante per le manovre agili che i giovani chiedono. Nel secondo tempo, arruffata manovra Juventina alla ricerca del pareggio, che i viola però non consentono. Anzi, potrebbero arrotondare dal 2-1 verso altre cifre con Restelli, che però sfira lo spigolo. Con Antonioni, che grazie all'amico Zoff. E ancora con Antonioni, ancora lui sì, non tira e Orlandini non ce la fa. E la Juve? La Juve, anche se in dieci, per l'espulsione di Furino, ha attaccato, ha attaccato, ha attaccato. Ma l'unico pericolo per Galli, eccolo. Colpo di testa a fiacco di Bettega. E la Juve ora è a un solo punto, in classifica, dai viola che lottano per salvarsi.